Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 13 maggio. Ariete, in amore avete bisogno di sentire il calore e la vicinanza del partner. La luna in cancro vi debilita costringendovi a non prendere impegni stressanti. Toro, non vi piace agire in maniera istintiva, ma in certi frangenti è necessario lasciarsi andare alla passione senza calcolare quelle che saranno le conseguenze. Gemelli, cercate di frequentare posti nuovi. La routine in questo momento assù di voi è un effetto deprimente. Avete assolutamente bisogno di fare cose originali. Cancro, mostrate le doti migliori del vostro carattere. Con la dolcezza e la comprensione potrete creare l'atmosfera ideale nella coppia, vivendo una giornata serena. Leone, gli affari vanno seguiti con grande attenzione, perché c'è sempre il rischio di commettere un errore grossolano. L'amore vi regalerà una serata speciale. Vergine, i rapporti sentimentali semplici non esistono. Cercate quindi di trovare il giusto equilibrio nella coppia, senza cercare altrove le attenzioni che non avete. Bilancia, vivrete una giornata molto positiva, grazie alla luna capace di farvi apprezzare alcune persone che solo qualche settimana fa sembravano quasi dei nemici. Scorpione, il vostro umore nero non contribuisce a migliorare l'atmosfera in amore. Ci sono dei piccoli attriti che rischiano di compromettere anche un nuovo rapporto. Sagittario, l'amore può regalarvi dei momenti indimenticabili, a patto che voi non facciate prevalere la gelosia. Attenti agli eccessi alimentari, seguite una dieta. Capricorno, iniziate ad averne abbastanza di certi rapporti che mostrano chiari segnali di stanchezza. Forse è arrivato il momento di fare un bilancio attento della situazione. Acquario, in amore non riuscite ad entrare in sintonia perfetta con il partner, a causa della vostra eccessiva irrequietezza. Non tutti possono ottenere il vostro ritmo. Pesci, andate dritti per la vostra strada. Questa luna vi permette di seguire l'istinto, senza la paura di commettere delle sciocchezze. Fate parlare il cuore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus. L'oroscopo diremo